Si è svolta ieri sera presso il solotto comunale del comune di Battipaglia il quinto focus gruppo a destinazione sud organizzato dal dottore Michelangelo Lurgi, legale rappresentante della rete a destinazione sud in sinergia con l'amministrazione di Battipaglia retta dalla sindaca Cecilia Francese. All'evento hanno partecipato gli imprenditori locali con l'obiettivo di sviluppare tematiche di crescita per il territorio attraverso un confronto produttivo e programmatico. Fare rete è una realtà che ha permesso e continuerà a farlo ai comuni che credono in rete a destinazione sud. Oggi per la prima volta penso nel comune di Battipaglia troviamo di fronte albergatori, gestori di B&B, ristoratori, imprenditori della fascia costiera. Si parla del turismo, rilancio la fascia costiera e oggi è un'occasione per cercare di creare rete. Fino ad ora c'erano sempre incontri staccati, abbiamo cercato di mettere insieme, il comune c'è. Si inizia nell'ascolto per quelle che sono le attività del regale al turismo e poi continueremo anche in vista dell'assegnazione del PUC dopo questa procedura di ampia trasparenza. Incominceremo l'ascolto anche delle attività industriali, degli industriali e delle persone che operano nel settore dell'agricoltura. Battipaglia rientra nella più ampia destinazione Salerno. La rete destinazione sud sta creando 14 destinazioni tra le quali c'è destinazione Salerno. Battipaglia rientra tra i 20 comuni dell'area del Salernitano. Abbiamo già fatto una serie di focus group di presentazione di progetto in tutte le aree dei 20 comuni facenti parte della destinazione Salerno. Il sindaco Cecilia Francese è venuto alla presentazione che abbiamo fatto al comune di Salerno, quindi col sindaco Napoli e gli altri sindaci del territorio. Adesso siamo qui a Battipaglia per spiegare questo progetto a tutti gli imprenditori, stakeholder, opinion leader, consorzi e associazioni dell'area di Battipaglia per fare in modo che qualora riterranno opportuno e lo riterranno opportuno possano aderire a questa iniziativa. Questo è l'ultimo focus group, dopodiché come è avvenuto per destinazione Salerno Agro-Valloidiano, una destinazione che abbiamo già costituito con 32 comuni, come è avvenuto per destinazione Cilento, costituita il 26 di settembre, 80 comuni, entro la fine del mese di novembre praticamente costituiremo destinazione Salerno. 20 comuni, tutti insieme, lavorare insieme vuol dire creare rete, creare opportunità per poter competere bene e meglio sul mercato nazionale e internazionale. Questo è l'obiettivo della giornata, questo è l'obiettivo e quello che spiegheremo per il focus. Il progetto è interessante, quindi lo dobbiamo sostenere, lo dobbiamo accompagnare, dobbiamo convincere gli imprenditori che se non si fa rete non si va da nessuna parte, ormai l'isolamento si paga caro, per cui ci dobbiamo convincere per davvero che è un percorso da fare insieme e solo insieme riusciremo a raggiungere dei buoni risultati per offrire, per far conoscere quelle che sono le eccellenze del nostro territorio. È l'unica strada che abbiamo perché si può essere un bravissimo albergatore, poi la città non funziona, l'ospite si ricorda della città che non funziona, si può essere un eccellente ristoratore, può essere difficile trovare un parcheggio, arrivi già arrabbiato nella struttura gastronomica, dunque vuole dire la città complessivamente che deve muoversi.